Adrenalina, libertà e neve fresca, freeride a Livigno, un progetto unico in Italia per gli amanti del fuoripista. L'ultima tendenza dello sciicchio a Livigno non poteva certo mancare. Scopriamo insieme cos'è il progetto freeride. L'anno scorso abbiamo attivato questo progetto appunto chiamato progetto freeride dove l'idea è fornire le migliori informazioni possibili all'utente. Ogni mattina emettiamo un bollettino valanghe locale, siamo gli unici in Europa a farlo e credo nel mondo a questo livello. Lo comunichiamo sia in italiano che in inglese attraverso tutti i canali che abbiamo a disposizione dalla televisione, alle mail, al sito internet su livigno.u lo potete trovare e addirittura lo progettiamo su degli schermi che abbiamo installato all'accesso agli impianti. Quindi è un pacchetto bello sostanzioso, completo, speriamo che ci sia tanta gente a divertirsi in fuori pista, però sempre in sicurezza. Livigno sarà protagonista assoluto del freeride con l'European Freeride Festival dal 31 gennaio al 4 febbraio 2015.